Lavoro atletico con il pallone e recupero tra le fresche acque abruzzesi per i calciatori della Virtus Francavilla è andato in archivio così il primo giorno di ritiro a Palena, la squadra prosegue il proprio lavoro precampionato agli ordini di Roberto Taurino carichi pesanti, tanti sforzi e per quei calciatori che potrebbero sembrare in uscita tanta voglia di mettersi in mostra e convincere il nuovo allenatore a puntare su di loro ma non solo lavoro e fatiche, anche tanti sorrisi partiti ieri mattina con il pullman dal Giovanni Paolo II è arrivato in provincia di Chieti, dagli abbracci fra Caporale e Perez a un ritrovato puntoriere che ha finalmente messo alle spalle l'infortunio al ginocchio e proprio prezioso Popiglio di Taurino che si è subito immerso nella realtà bianca-azzurra e ambientato alla grande del gruppo ma rubare la scena anche sui social è quel chicco patierno desideroso di tornare in campo e fare ciò che più riesce meglio ovvero gonfiare la rete e poi negli scatti del fotografo Miglietta è possibile vederlo sorridere e scherzare con lo staff tecnico insomma al momento c'è tutto per considerare fantastica l'atmosfera in casa Virtus Francavilla manca qualcosina invece in termini di rinforzi dal mercato i sogni per la difesa restano idda e cosenza per i quali la società non ha perso le speranze in avanti arriverà un sostituto di Vasquez soprattutto se a patierno non verrà ridotta la squalifica possibile infine anche un ulteriore innesso a centrocampo